Salve e benvenuti all'edizione di InfoNews della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria. Vi racconto brevemente quello che succederà. Giovedì prossimo, il 15 di ottobre, abbiamo il webinar sulla filiera dell'agroalimentare e anche le altre settimane stiamo organizzando degli altri webinar, quindi seguiteci ed iscrivetevi in molti. Inoltre, alla fine del mese stiamo programmando finalmente l'evento per il lancio della mappatura che è la raccolta delle aziende italiane in Ungheria. Vi manderemo più dettagli in brevissimo tempo. Lo potrete molto probabilmente seguire anche online, quindi davvero seguiteci. Come sapete, a causa Covid l'ingresso in Ungheria è ancora abbastanza difficoltoso, quindi non esitate a contattarci per avere supporto per il vostro viaggio da fare in Ungheria. Infine, con molto piacere che vi dico che voi come soci state utilizzando i nostri locali, la Sala Regnoni e quant'altro per fare incontri per i vostri affari. Questo mi riempie di tantissima gioia e vi esorto a sfruttare gli ultimi spazi disponibili e stiamo anche prevedendo l'opzione di co-working, quindi contattateci per avere un'offerta e per sapere le possibilità che vi aspettano. Infine, vi segnalo che stiamo migliorando tantissimo il nostro profilo LinkedIn per avvicinarci ulteriormente a voi, quindi seguiteci anche su quel canale. Non vi rimane altro che salutarvi e augurarci di vederci presto insieme per crescere.